Potremmo procedere con i saluti, poiché oggi questa è una giornata, l'abbiamo detto e lo ripetiamo, straordinaria, dedicata a Ferrara, al volo e all'università. E allora ci sono il sindaco di Ferrara, avvocato Tiziano Tagliani, il generale di divisione aerea Giovanni Fantuzzi del COA e il magnifico rettore dell'università di Ferrara, professor Giorgio Zauli, se vogliono accomodarsi per portare la testimonianza e il saluto dell'amministrazione cittadina, delle forze armate e dell'università. Grazie di cuore, è davvero un grandissimo onore, un privilegio per il comandante del comando dell'operazione aeree, dare il benvenuto a questa giornata che ritengo, riteniamo fantastica. Di nuovo ricordo che il tema era sicurezza e ricerca, quindi come le istituzioni del nostro amato paese possano fare sinergia positivamente, possono offrire ai nostri ragazzi, al nostro territorio delle grandissime opportunità. Io vorrei solo ricordare che le 1750 uomini e donne in uniforme che sul territorio ferrarese tutti i giorni cercano di fornire sicurezza nello spazio aeronazionale, sono come il capitano Cristoforetti, ciascuno di noi è solo la punta di un iceberg, un iceberg che è una squadra, è la squadra che vola, che vi vorrei presentare sfruttando un piccolissimo videoclip che si intitola proprio 93 anni in 90 secondi, 93 anni di aeronautica militare, in poche immagini cercherà di sintetizzare la missione che la Forza Armata fa tutti i giorni. Se facciamo partire il video, per favore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Concludo il mio previsto intervento passando la parola al magnifico rettore ricordando solo che sul territorio ferrarese l'aeronautica militare ha anche una fruttuosissima cooperazione con l'Università di Ferrara anche in un altro settore che è quello della giurisprudenza e quello del diritto umanitario, del diritto in caso di conflitti e da anni studenti e ufficiali della Forza Armata si preparano insieme per gestire al meglio e formare i legal advisor, li chiamiamo noi, i sostenitori del comandante dell'operazione aerea dal punto di vista legale. Quindi come vedete la sinergia c'è, le opportunità ci sono, ovviamente a voi coglierle. Magnifico rettore. Buonasera a tutti, una bellissima giornata, l'abbiamo pensata alcuni mesi fa, l'abbiamo programmata e meglio di così credo non potesse venire. Sembra che la collaborazione sia fruttuosa come ricordava il generale e credo che a questa occasione ne potranno seguire altre. Tengo a sottolineare un aspetto, la nostra università che ha grandi tradizioni, ha grande qualità, è radicata in questo territorio e le sue dimensioni, quella di essere un medio ateneo, fanno sì che i contatti umani siano più facili. Quindi è stato possibile che i nostri migliori ricercatori si siano trovati abbiano ideato un esperimento fantastico e abbiano avuto come ci raccontavano nel primo pomeriggio l'incoscienza di andare avanti, proporlo alla NASA, superare tutti gli ostacoli che si sono trovati ad affrontare e ad avere infine successo. quindi io sono molto felice che tutti questi giovani siano qui oggi perché l'università è un momento formativo importantissimo, è il momento in cui si diventa adulti e si devono fare le scelte fondamentali per la propria vita. Quindi sappiate tutti voi cari ragazzi che noi siamo qui pronti ad accogliervi, coloro che non vogliono fare l'aeronautica ovviamente che è un'altra scelta altrettanto importante e qualificante e vi aspettiamo a braccia aperte. Questa è una bellissima città dove poter studiare a misura di studente e si può non solo studiare ma fare anche grandi cose dal punto di vista scientifico come l'esperienza che ci verrà raccontata oggi dimostra. Grazie a tutti per essere qua. Io ringrazio tutti della partecipazione, è una sala gremita, questo sta a dimostrare la bontà dell'iniziativa e il risultato ottimo di questa sinergia non banale tra l'aeronautica e l'università. La nostra città in questi anni ha provato a caratterizzare le proprie strutture, anche la propria organizzazione urbana come un grande contenitore in maniera tale da poter offrire la propria bellezza, la propria struttura anche ad eventi che passano sopra la città, diventeremo la sede del museo della cultura ebraica, ospitiamo eventi nazionali, il festival internazionale e tantissime altre realizzazioni. Eppure non lo viviamo come se fossimo una bella scatola da riempire e soprattutto non lo viviamo quando l'oggetto di questi eventi è un oggetto particolarmente significativo come la presenza a Ferrara di oltre mille operatori dell'aeronautica, quindi anche le loro famiglie, la loro conoscenza, la loro professionalità o 18.000 studenti universitari. Significa una città che sta cambiando, che si sta trasformando, che sta modificando le proprie strutture, che apre alla conoscenza, apre anche alla novità, al cambiamento, all'apertura rispetto ai giovani, rispetto alla tecnologia, rispetto alla ricerca, una dimensione che forse non è proprio connaturale. Quindi non solo una città aperta, una città bella, non solo una dimensione di accoglienza a 360 gradi, ma anche la volontà di trasformare, di rendere la nostra città, i nostri giovani, le nostre famiglie, le nostre strade capaci di leggere, di essere presenti, soggetti attivi nel futuro del nostro paese. Quindi questa è un'ottima iniziativa, mi sembra che il ringraziamento vada dalla città, proprio a chi l'ha pensata e chi la sta organizzando.